Questa notte a San Pietro Altanagri, carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto due pregiudicati, un italiano di 51 anni ed un romeno di 48, per detenzione e porto di una pistola rubata e di munizioni. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Sala Consilina, guidati dal luogotenente Cono Cimino, coadiuvati dai militari del nucleo operativo e radiomobile. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari dell'arma hanno intimato l'alt ad un'autovettura, una Fiat Punto, con a bordo i due. Dopo aver accostato l'auto presso un'area di servizio di San Pietro Altanagro, il cittadino straniero ha tentato di fuggire nelle campagne circostanti, disfacendosi di una pistola semi-automatica, marca Astra calibro 7,65, perfettamente funzionante, completa di serbatoio con sei proiettili, gettandola in un bidone dell'immondizia. I carabinieri, a seguito di immediate ricerca, hanno rintracciato l'uomo in fuga ad Atena Lucana. All'interno dell'auto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 14 proiettili, sottoponendo a sequestro l'arma semi-automatica e 21 munizioni. Le prime risultanze investigative hanno consentito di accertare che l'arma da fuoco è provento di un furto in abitazione, effettuato a Capaccio Scalo nel luglio del 2015. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l'eventuale utilizzo in azioni delittuose a fuoco. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima da celebrarsi dinanzi all'autorità giudiziaria di Lago Negro.